Eccomo spazi alle rubriche settimanali Novi Stalmont. Oscre in quest'appuntamento con Novi Stalmont lanta a Melbourne in Australia e poi festezza mens dal 65esimo anniversario di fondazione del Fogolar Furlan in programma Cadium Pardidis. La nascita dall'associazione è stata ufficializzata in tal settembre dal 1950 per l'ora di una nave bordata in tal port. E a contanos la storia dal Fogolar Furlan di Melbourne alle Fred Martin, segretari dall'associazione referent Pai Fogolars di tutte le australie. Buonasera, saluto al Fogolar Furlan di Melbourne e Australia che poi c'è settimane fa l'estate l'estate, è un'ora preparata tutta per festeggiare questa bella ricorrencia con una serata di bal o Gala Nights, come che la chlamo in qui. A conto in su più di 200 persone che saranno in attesa e saranno ospitate in tal friù del nostro gruppo. All'è il mio gran plasè come referent dell'ente friù del mondo in Australia ha presentato i componenti del Comitato Direttivo del Fogolar Furlan di Melbourne accanto dalla Presidentessa Patrizia Corelli. Ciao e mandi di cura a tutti! Il Vice Presidente e Tesorer Peter Muzzolini Mandi e Salus della Speraghe La Consigliere Elisabetta Pase Ciao Friuli La Consigliere Amalia Tomada Saluti e mandi a tutti! Il Consigliere Lidio Bidinos C'è molto, speriamo che sia benvenuto! Il Consigliere e musicista Will Music Mandi a tutti i friù e a chi di qua e di là da l'aghe La Consigliere Nadia Corelli Ciao a voi tutti, mandi! E infine us presenti la Consigliere Carmela Franco Cordiali saluti a voi tutti, mamani! E per finì, grazie infiniti agni ovi del mondo e all'ente friù del mondo per il loro incoraggiamento e sostegno. Mandi ad tutti che ossessi ascolti in te friù e in tal forest. Arrivederci alla prossima Federico Martín, Australia Questi incumori in Argentine Dù la che ai 4 di settembre passate Gli estade celebrate la giornata degli immigrati A Usuai, a Talatiere dal FUC Questa celebrazione si fa sdenando al monumento al migrante Dù la che i rappresentanti dagli diversi nazionalità Appuartino la loro bandiera Il portebandiere per la nostra regione All'està Carlo Eninger Presidente al Fogolar Furland al Puest Che in che cerimonie Alla ricevù dal Ministeri dell'Interno di Argentin Un'onore efficienza per la sua storia Arrivederci al 74 anni in Daur Eninger alle un dei ultimi 5 pionieri Restazza in che movivsta la città d'Argentine Carlo Eninger di fatta l'erivata a Usuia Calbeve Dome, Doi me Scula Marian Cilla d'Agostino Di Grions dal Tor Sulla NAV Carlo Alliere il plui picciul dal gruppo Dissiscente di Sevot Pionier Stalians Rivaz di Zenue Parchiapaparta La ricostruzione dalla città Dallatiere dal FUC Dissiscente di Sevot di Lor Passe tresinte Ayer in Furlands C'ha vignivi in massime dagli sbandi Di Paolet, Faedis e Martignan La famea di Carlo E ha metto in Piz Oltre di altre associazioni Anche il Fogolar Furlan Cala Marian Cilla E gli estade la prima presidente E anche pari snotta le due Gnovis al torne domani Buine serate e mandi AFO 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 A girls